18 maggio 2020 persecuzione dal vangelo secondo giovanni capitolo 15 in quel tempo disse gesù ai suoi discepoli quando verrà il paraclito che io vi manderò dal padre lo spirito della verità che procede dal padre e gli darà testimonianza di me e anche voi date testimonianza perché siete con me fin dal principio vi ho detto queste cose perché non abbiate scandalizzarvi vi scacceranno dalle sinagoghe anzi viene l'ora in cui chiunque vi ucciderà crederà di rendere culto a dio e faranno ciò perché non hanno conosciuto né il padre né me ma vi ho detto queste cose finché quando verrà la loro ora ve ne ricordiate perché io ve l'ho detto gesù afferma chiaro e tondo che il destino dei credenti nel cristo e la persecuzione gesù lo dice per non far cadere nello scandalo chi crede che essendo cristiano questo crei le situazioni migliori sulla terra l'approvazione della gente in quanto si dimostra di essere buoni misericordiosi caritatevoli e benintenzionati nessuno dovrebbe dunque perseguitare della brava gente non fu e non sarà così chi cerca fa il bene viene perseguitato ucciso per questo poiché la legge del mondo è l'agire per interesse e forza sugli altri capacità di dominio di impresa a scapito dei deboli tutto questo può essere solo infastidito da chi agisce gratuitamente ma c'è di più di questo ancor più difficile da essere accettato e che veramente può costituire un impedimento alla fede il vero scandalo si tratta del fatto che le persecuzioni quelle peggiore sono venute verranno dall'interno della sinagoga dal nucleo centrale dell'istituzione della fede questo farà condannare e perseguitare i fedeli che adorano dio nel cuore in spirito e verità poiché hanno lo spirito santo che li guida mente persecutori con il volto mascherato da tradizione istituzione potere costituito trasmissione della fede istituzionalizzata in realtà non amano spirito non adorano dio nel loro cuore sono figli del demonio poiché adorne il potere mammona la fede è lo strumento di inganno più efficace nelle loro mani costoro non conoscono il padre anche se se ne riempiono la bocca costoro non hanno abramo per padre ma satana poiché fanno le sue opere costoro sono pronti in nome di dio di fan severità mascherate con le parole di dio ad uccidere di nuovo il cristo nel suo corpo vivo come fece saulo di tarso costoro costituiscono la sinagoga di satana adorano la bestia e costruiscono un tempio che non è il corpo di cristo poiché gesù fu trattato come pieto di scarto per continuare la loro costruzione senza dio contro dio ma in nome di dio un dio che non è quello che i fedeli avvertono sentono adorano credono e seguono nel loro cuore non sia di scandalo dunque il grande scontro che fu al tempo di cristo fu il tempio la sinagoga di satana che in accordo coi poteri laici costrinsero ad ottennero la condanna dell'unico giusto il cristo poiché sapevano bene che era colui che avrebbe sradicato il loro piano colui che li aveva accusati di aver fatto del tempio un covo di ladri e briganti costrui andava soppresso e con lui tutti i suoi seguaci che mostravano di possedere la potenza dello spirito e di essere una moltiplicazione di gesù come uno specchio infranto che moltiplicava le sue luci moltiplicando il cristo sul volto di ogni fedele non poteva essere tollerato tale pericoloso sovvertitore dell'ordine umano satanico costituito all'interno del tempio non poteva essere che soppresse denigrato ufficialmente dichiarato sovvertitore delle leggi e delle tradizioni delle istituzioni dei benpensanti della gente da bene costui doveva e deve essere soppresso sempre in coloro che osino manifestarlo testimoniarlo con la vita con la verità con la santità con la potenza dello spirito anche ora ad approssimarsi della grande tribolazione i veri adoratori del padre che il padre cerca sono e saranno considerati pericolosi ufficialmente banditi privati dei diritti civili del riconoscimento religioso in nome di un ordine umano costituito dagli accordi larghi degli uomini e dagli schieramenti più improbabili che tutto hanno tranne che la fede in cristo la consegna nelle mani degli uomini si ripeterà si sta ripetendo ogni qualvolta in nome di un buonismo generico si sacrifica la verità l'essenza della fede il mezzo della salvezza la verità di cristo la sua dottrina i suoi sacramenti di salvezza stiamo dunque pronti a non essere di quelli che cadono nello scandalo della verità conculcata di non diventare parte di un ordine civile che non è l'ordine divino chi fa la volontà di dio è amato chi rende insipido il sale verrà calpestato testimonianza martirio fortezza guida dello spirito adoratori del padre nell'intimo adoratori del figlio all'interno dell'anima per rendere testimonianza della speranza che in noi questa è la nostra vocazione dio vi benedica